Ciao a tutti, sono sempre io Alessandro, l'amministratore del canale Commedia Aritaliana. Oggi ragazzi sono particolarmente emozionato, sono molto emozionato perché ieri sera ho avuto il privilegio di vedere su Netflix il nuovo film di Edoardo Ponti interpretato da Sofia Loren. Ho avuto il privilegio di vedere il nuovo film con Donna Sofì, che torna a recitare dopo tanti anni, certo non è uscito nelle sale, l'uscita nelle sale era prevista per due o tre giorni, poi ovviamente è stato un film fin da subito partorito per Netflix, ma c'era quest'idea di trasmetterlo nelle sale. E so anche perché, perché ovviamente Sofia Loren e il cinema sono una cosa sola e sarebbe stato un privilegio forse ancora superiore poter vedere questo film in sala. Ma adesso siamo in un periodo in cui è inutile anche parlarne e dobbiamo ritenerci fortunati perché abbiamo la possibilità di vedere questo film adesso, appena uscito, interpretato da Sofia che adesso ha 86 anni, l'ha girato mi sembra l'anno scorso, un anno e mezzo fa. Sofia è stupenda, è meravigliosa, è magica come è sempre stata. La vita davanti a sé, tratto dall'omonimo romanzo del 75 che era già stato portato al cinema nel 77 con un film omonimo e adesso arriva su Netflix. Sofia Loren, Ibrahima Gueye, questo bravissimo attore ragazzino di 12 anni che esordisce con questo film, è un'interpretazione strepitosa, soprattutto se consideriamo appunto il fatto che si tratta di un esordio con un bel cast, con un grande Renato Carpentieri, Massimiliano Rossi. Ma ragazzi, ahimè, devo dire che Sofia, come sempre, si prende tutta la scena. Madame Rosa è interpretata da Sofia Loren, è questa donna, questa anziana signora sopravvissuta all'olocausto che ospita nella sua casa dei bambini in difficoltà, alla quale viene affidato da Renato Carpentieri questo ragazzino di colore un po' difficile che ha tentato anche di scipparla, poi le ha riportato la roba rubata ed è un ragazzino un po' particolare, molto frustrato forse anche, ovviamente orfano, quindi un bambino difficile, un bambino molto difficile che comincerà a stringere questo rapporto con Madame Rosa, inizialmente molto molto combattuto, molto complesso, ma che poi diventerà un rapporto molto più interessante, un rapporto intenso, commovente, così come commovente, intenso, emozionante è questo film, che racconta del loro rapporto, un rapporto di amicizia. Beh, io amo molto queste amicizie, le amicizie tra generazioni opposte, un ragazzino degli anni 2010, vissuto negli anni 2010, e una donna degli anni 30, ecco, e quindi assolutamente adoro questi rapporti, e mi piace moltissimo vedere poi come riescono a sposarsi questi tipi diversi, anche queste tipologie differenti, anche di recitazione. Donna Sofì si prende tutta la scena, ma Ibraimaway è bravissimo, ripeto, all'esordio, non è facile, e sono entrambi diretti benissimo da Edoardo Ponti, il figlio di Sofia e di Carlo Ponti, che ricordiamo, straordinario produttore del cinema italiano. Mi sento veramente onorato, ragazzi, ho avuto la fortuna di poter vedere un film con Sofia Loren appena uscito, ora non è al cinema, però è su questa meravigliosa piattaforma che è Netflix, mi sento veramente onorato di questo. Com'è il film? Io l'ho trovato stupendo, film meraviglioso, avevo delle grandi aspettative, ma non mi aspettavo tutto questo, mi è piaciuto moltissimo, è un film molto toccante, ma è un film che ha anche un po' di ironia, riesce anche a divertire in alcuni momenti, perché Sofia è stata una delle regine della grande commedia italiana, e quindi ha quella verve, ha quella battuta pronta, ha quel tocco di cultura partenopea che un sorriso te lo strappa, ed è bellissima, è bellissima Sofia Loren, è bellissima, è una magia quella che lei riesce a creare attorno a sé, è una magia che trasmette agli spettatori, che trasmette al film stesso, e ovviamente verso la parte finale, ovviamente non posso spoilerare nulla, lungi da me farlo, anzi soprattutto vi consiglio ai ragazzi di vedere questo film, si sarà capito che a me è piaciuto da morire, ma sono sicuro che potrà conquistarvi, ha ricevuto un'accoglienza molto positiva da parte della critica, ma credo che sia veramente fatto molto bene, al di là dell'aspetto emotivo, dell'emozione di rivedere Sofia, è un film veramente validissimo, ma comunque nella seconda parte del film, esce fuori il lato più commovente, nella prima si sorride, si riflette, ma poi dopo ci si emoziona, ci si commuove, ci si commuove perché nasce un rapporto tra, tra Momo e Madame Rosa, che è veramente molto molto toccante, emozionante, con il quale mi sono emozionato, del quale mi sono innamorato, e quindi non posso far altro che consigliarvi di vedere questo film, dalle mille riflessioni, è un film che credo sia anche un film per tutti, perché ovviamente è un film commovente, quindi chi si vuole emozionare con i film, qui troverà la sua dimora, però è anche un film che potrebbe piacere a chi magari non ama troppo la commozione, non ama troppo l'emozione, ricerca più il dramma, oppure ricerca più magari un quadro sociale, insomma è un film veramente per tutti, che vi consiglio di vedere, che spero stia andando bene su Netflix, ovviamente il pubblico di Netflix, il pubblico mio coetaneo, sarà abituato a un altro tipo di film, di serie, lo sappiamo, però è significativo che esca su Netflix, una piattaforma così grande, così importante, che ospita questo film, così importante, perché c'è Sofia, ma soprattutto perché anche Edoardo Ponti, ecco è un passo molto importante, anche all'interno della filmografia di Edoardo, che francamente non conosco al 100%, ma che sicuramente con questo film tocca a un livello molto alto, bravissimo, Renato Carpentieri, non c'è bisogno che ve lo dica, ma attore straordinario, c'è anche Massimiliano Rossi, Massimiliano Rossi anche lui, insomma ha un ruolo non facile, molto ben interpretato, devo dire che a me è piaciuto tantissimo, e mi aspettavo, mi aspettavo ripeto un bel film, però così tanto no, e quindi veramente stupendo, gli do un 9 pieno, perché per me questo è un cavolavoro, per me questo è un cavolavoro, ci ho riflettuto tanto, ho sentito anche altre recensioni, ho letto, mi sono informato, ci ho riflettuto, questo è un cavolavoro, per me questo è un cavolavoro assoluto, e sono fiero, che il cinema italiano, e come cinema intendo, insomma la produzione filmica italiana, abbia sfornato un film del genere, proprio adesso, in questo momento, in cui stiamo vivendo un periodo così difficile, e ci ritroviamo di fronte a un film che affronta un tema difficile, e lo affronta in maniera straordinaria, fatemi sapere nei commenti cosa le pensate, La vita davanti a sé, e i nuovi film di Edoardo Ponti, interpretato da Sofia Loren, è un grande cast, ma soprattutto da Sofia Loren, e questa è la cosa più bella, più, è anche una grande responsabilità, ragazzi, insomma, provare a parlare di un film con Sofia, e soprattutto, ripeto, di un film appena uscito, mi ritrovavo a vedere poco fa, poco tempo fa, magari la Ciociara, ieri, oggi, domani, film che rivedrò sempre, e poi adesso mi ritrovo a vedere un film appena uscito, non so via, mamma mia, ciao a tutti, e sempre viva il cinema italiano!